Cinque borghi unici e sconosciuti in solo 18 chilometri. Ecco un'idea da salvare per una gita in Romagna. La prima tappa è Saludecio, la città dei muri dipinti. Girando tra le sue vie, impariamo che la pizza margherita, i jeans, la fisarmonica, il franco bollo e addirittura la cartigenica sono tutte invenzioni dell'Ottocento. Prendiamo la mappa per scoprirle tutte e 49. A soli tre minuti arriviamo a Mondaino, il borgo con vista. Infatti, dalla terrazza dell'impolente rocca malatestiana si ammira un grandioso panorama su Romagna e litorale pesarese. Non perderti la degustazione di formaggio di fossa presso l'antico mulino. Altri due minuti di strada e troviamo Monte Gridolfo, che è uno dei paesi più belli d'Italia. Circondato da alte mura perfettamente conservate, si erge su una collina al confine tra Marche e Romagna. Il piccolissimo Cerreto Castello è detto il paese degli sciocchi, a causa di buffe storie inventate che si raccontavano un tempo sui suoi abitanti, che oggi sono ben otto con l'ultima arrivata solo dieci mesi fa. Infine, arriviamo a Montefiore Conca, il borgo del fantasma. Mi pare che il bellissimo e visitabile Castello Malatestiano sia tuttora abitato dall'anima inquieta di una giovane malatesta vissuta qui più di 700 anni fa. Tagga chi ti deve portare qui e seguici per altri itinerari insoliti.